La stagione turistica estiva è iniziata da qualche settimana. Fabio Valli, vicepresidente di Federalberghi Sondrio, traccia un breve bilancio dei primi mesi del 2023 e fa un'analisi del prossimo futuro. Questi anni siamo usciti da un inverno e da una primavera molto interessante dal punto di vista lavorativo. Abbiamo lavorato a pieno ritmo per tutti questi mesi invernali. La primavera stessa ci ha dato delle grossissime soddisfazioni vuoi per il vantaggio del metro che è sempre stato bello, vuoi per tutta una serie di ponti che si sono accumulati durante questi periodi. C'è stato per la verità un certo rallentamento sul mese di maggio ma era prevedibile anche perché il metro poi non ci ha aiutato. Mentre invece le prospettive per la stagione estiva sono veramente importanti. Abbiamo, noi qua a Telma, come del resto in tutte le località del Valtellinesi, abbiamo notevoli prenotazioni e siamo certi che andrà per il meglio anche quest'anno e potremo ricalcare il buon andamento delle ultime stagioni estive. Grazie. 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 Grazie.